Questo edificio, oggi trasformato in hotel, si trova nella parte antica della città. Siamo in un vecchio quartiere, dove si può respirare l'aria del fitto reticolato del Yutong, che furono costruiti seguendo i precetti del Feng Shui. Abbiamo voluto mantenere gli elementi tradizionali, soprattutto nella parte esterna e nella cura dei dettagli. La nostra clientela è formata da turisti che arrivano da tutto il mondo, anche se la maggior parte proviene dal Nord America. Amano questo posto perché qui trovano il giusto compromesso tra modernità, comfort e tradizione. Infatti è una struttura di ottimo livello, che non trascura le esigenze degli occidentali. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS